Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Ciao ragazzi, martedì 22 novembre 2002 verrà ricordata come la giornata in cui il Manchester United ha licenziato Cristiano Ronaldo. Il club inglese ha diramato una nota ufficiale sul proprio sito, poi rilanciata anche dai canali social, in cui annuncia la risoluzione di contratto immediata con il campione portoghese, che nel frattempo, come sappiamo, è impegnato in Qatar con la nazionale portoghese per i mondiali che si stanno disputando a due dintorni e che da gennaio, quindi, avrà la possibilità e la libertà di trovarsi una nuova collocazione. Il secondo stint di Cristiano Ronaldo al Manchester United non è proprio andato come ci si aspettava. Nell'estate del 2021 la Juventus ha deciso di concedere a CR7 la possibilità di andarsene, praticamente a fine mercato, ricorderete che lui giocò ancora il primo turno della Serie A 21-22 nella trasferta di Udine, segnando, tra l'altro, anche se non ricordo male, per tornare allo United. Uno United che lo riaccolse a braccia aperte all'interno di una settimana finale di mercato molto movimentata in cui Jorge Mendes aveva praticamente, e questo ce l'ha svelato Cristiano Ronaldo qualche tempo fa, chiuso il passaggio del fenomeno portoghese al Manchester City. Poi sono successe cose che hanno permesso allo United di ritornare in pista. Il matrimonio è stato celebrato, la prima stagione, nonostante a livello di numeri non sia stata negativa, non ha portato granché, a tal punto che lo United ha fatto male, non si è qualificato per la Champions League e quest'anno Cristiano Ronaldo è rimasto indispettito da questa cosa. Ma perché si è arrivati al licenziamento? E poi vi dico anche la mia sulla questione. Prima di aggregarsi alla partenza per il Qatar insieme alla nazionale portoghese CT Fernando Santos, Cristiano Ronaldo si è preso la libertà di rilasciare una lunga intervista al Sun, un'intervista rilasciata a un amico giornalista, Piers Morgan, che con Cristiano Ronaldo ha condiviso buona parte della sua carriera, quindi fin dagli inizi a Manchester, ed è stato pubblicato un video, prima a Spezzoni con le parti salienti e poi intero più di un'ora di intervista, nella quale Cristiano Ronaldo di fatto spara a zero, principalmente contro il Manchester United, poi contro l'allenatore Eric Tenag, col quale evidentemente, perché ce lo dice lo stesso Cristiano Ronaldo, non è mai corso un buon rapporto e poi si è anche lamentato per il suo impiego in questa stagione. Difatti, andando un po' a spulciare quello che è successo in questa prima parte di Premier League e di Coppe Europee, vediamo che Tenag non ha mai puntato veramente su Cristiano Ronaldo, tanto che nelle due partite chiave degli ultimi mesi, quella contro il Tottenham e il derby contro il Manchester City, in una Ronaldo non è stato mandato in campo, nell'altra Tenag, contro il Tottenham proprio, l'avrebbe mandato in campo negli ultimi minuti, ma lui si è rifiutato di entrare, lasciando lo stadio e portando la società prima a combinargli una multa e poi a pubblicare una nota, sempre sul sito ufficiale, il quale prendeva le distanze dal gesto di un tesserato. Poi Ronaldo pare abbia chiesto scusa, ma si era capito che le cose non andavano bene. Infatti, in questa intervista, Ronaldo parla di un Manchester United irriconoscibile, a livello societario rispetto al suo primo ciclo, parla di una società allo sbando da quando è andato via Sir Alex Ferguson, dicendo che è stato proprio Ferguson, nei giorni in cui lui stava definendo il suo passaggio al City, ad alzare il telefono e a convincerlo a non andare dalla sponda blu della città, ma di aspettare che lo United definisse il suo riacquisto, e poi ha parlato anche di mancanza di rispetto da parte di Tenag, tornando proprio sugli episodi che vi ho citato, quindi esclusioni da partite importanti, e anche ammettendo che dicendo io non ho rispetto per chi non mi rispetta. Dognerebbe capire in cosa si sostanzia questa mancanza di rispetto, perché poi c'è anche da fare un discorso sul Manchester United. Negli ultimi anni la società inglese, effettivamente, ecco, quando Ronaldo dice che c'è sempre stato un po' di confusione nel post Ferguson, ha ragione. Tra l'altro è notizia di queste ore che i proprietari, la famiglia Glazer, ha messo la società praticamente in vendita ed è disposta ad ascoltare offerte, quindi significa che vuoi o non vuoi siamo alla fine dei giochi per questa proprietà, che tra l'altro è stata anche molto contestata in passato dai tifosi, però va anche detto che proprio in virtù della confusione di qui sopra, da qualche parte bisogna ricominciare. La storia del calcio insegna che per ricostruire dalle fondamenta una squadra che ha palesato problemi per tanti anni serve un allenatore fermo nelle proprie posizioni, capace, tatticamente moderno, cosa che è Tenag, ma soprattutto bisogna dargli fiducia, dargli carta bianca. Quindi il fatto che il rapporto tra Tenag e Cristiano Ronaldo non abbia mai avuto dei picchi positivi, sia dato solo dall'utilizzo, che, anzi del non-utilizzo da parte del manager olandese per quanto concerne Ronaldo, sappiamo che l'antipatia e il non rispetto nasce esclusivamente da questo. Cristiano Ronaldo è sicuramente un personaggio ingombrante e il fatto che si sia arrivati al licenziamento, comunque alla recessione contrattuale, dal mio punto di vista è anche una cosa un po' voluta, nel senso che lui ha capito che lo United era arrivato ai titoli di coda. Lo United si toglie uno stipendio importante per un giocatore che non viene considerato così importante come una volta e soprattutto ognuno è libero di fare quello che vuole. Quindi lo United prenderà le sue decisioni e pare che la società tornerà sul mercato a gennaio andando a prendere Gakpo del PSV Eindhoven, che è un giocatore che sta facendo molto bene in stagione e ha anche segnato recentemente ai mondiali con la maglia dell'Olanda, mentre Ronaldo potrà andare a prendersi un altro contratto oneroso da qualche altra parte, sempre ammesso e non concesso, che abbia delle richieste e delle proposte. Cosa che io personalmente non do assolutamente per scontato. Perché portarsi in squadra uno come lui, dicevo, soprattutto a gennaio, quindi a metà di una stagione anomala per tanti motivi, rimane un rischio. Rimane un rischio. Poi, io faccio anche un appunto nel merito delle posizioni del giocatore, perché quando si parla di rispetto, cioè il rispetto tu lo devi ricevere, ma non perché ti chiami Cristiano Ronaldo, lo devi ricevere per il lavoro quotidiano, per il sacrificio, per come ti metti a disposizione di una squadra, essendo il calcio non uno sport singolo, ma appunto una disciplina collettiva. E diciamo che se su Ronaldo calciatore non si può assolutamente discutere, i numeri e i trofei parlano per lui, sul Ronaldo uomo squadra qualcosa da dire ci sarebbe. Perché è vero che lui spesso è stato un trascinatore, ma dove? In mezzo alla Golden Age del Manchester United e al Real Madrid, dove comunque attorno ha sempre avuto una squadra di gente che trascinava la carretta per lui. E poi, per carità, lo metteva nelle condizioni di fare la differenza. Questo, secondo me, è palese. E io, quando parlo di Ronaldo, porto sempre a rimorchio l'esempio di Benzema. Non appena Cerset è andato via da Madrid, Benzema è tornato a essere dominante a tal punto da riuscire a vincere il pallone d'oro. Questo è un dato di fatto. Ripeto, senza nulla togliere, ha un grandissimo campione. E quindi la domanda che mi faccio è chi a gennaio potrebbe accollarsi Ronaldo con tutto ciò che ne consegue, sia a livello economico che a livello sportivo e di spogliatoio. Per me le soluzioni non sono tante. Io mi sono fatto quest'idea, anche informandomi un po' sui giornali inglesi e cercando di capire se ci sono già delle piste concrete che magari hanno portato Ronaldo a rilasciare quell'intervista in modo tale che il Manchester United reagisse e si trovasse un accordo per separarsi anticipatamente, perché magari lui potrebbe avere delle altre soluzioni in ballo magari migliori dello United. Ci ho pensato. La prima opzione che mi è venuta in mente è il Chelsea, di cui si parlava anche già quest'estate, proprio quando sembrava che i mal di pancia di Ronaldo e la Juve stessero per esplodere. Io non lo so, se fossi il Chelsea non prenderei Ronaldo a gennaio, ma vi spiego anche perché anche nel sud di Londra la stagione è abbastanza movimentata. Si è partiti con Tuchel, poi si è cambiato manager, è arrivato Graham Potter che sta ancora cercando un po' la quadra, molti giocatori sono lì in bilico anche a livello di valutazioni. Inserire Ronaldo in un contesto così delicato che prevede già dei ragionamenti per altri motivi per me può essere un rischio. Certo è che lì davanti il Chelsea ha già tanta carne al fuoco, cioè è Potter che li deve far rendere, quindi non lo so se io andrei a mettere Cristiano Ronaldo all'interno dei Blues men che meno a gennaio. Poi si è parlato del Newcastle che avrebbe i soldi per pagare un ingaggio che comunque Ronaldo mi pare di capire non è che abbia voglia di decurtarsi, però il Newcastle sta facendo dei movimenti molto intelligenti, nonostante il fondo saudita alle spalle e mi pare che si vada su profili differenti, su profili più giovani che possono anche non europei, per esempio recentemente si è parlato di una squadra dei McPies fortissimi su Maximo Perrone, questo ragazzino del vele Sarsfield che potrebbe essere acquistato già nella sessione di gennaio. cioè in un discorso di potenziamento ragionato Cristiano Ronaldo come quello che sta portando avanti il Newcastle per me Cristiano Ronaldo non rientra, non rientra, così come mi farebbe molto strano vederlo all'Atletico Madrid a me se non concesso che l'Atletico Madrid possa permetterselo. perché? Perché innanzitutto Cristiano Ronaldo è vero che dal punto di vista sentimentale non è uno che guarda molto, però lui sarebbe stato inclino ad andare al Manchester City ecco dopo i tanti anni allo United, quindi non credo si farebbe problemi ad andare all'Atletico, però certo è che mi farebbe molto strano vederlo negli storici rivali del Real, in più un giocatore accentratore che ha bisogno di essere lasciato davanti a fare gioco per rendere segnare e che comunque è più vicino ai 40 che ai 30 quindi ha anche dei cali fisici che sono ovvi e fisiologici con il gioco di Simeone non lo so quanto i due potrebbero prendersi non lo so a meno che questa cosa non venga vista come sgarbo al Real Madrid per il resto MLS o campionati arabi potrebbero essere due soluzioni per Ronaldo forse più la MLS dove lui potrebbe avere anche interessi extrasportivi ed extracalcistici però ecco tutta questa ricenda ne sottolina come un giocatore che ormai per sopraggiunti limiti di età è in declino si sia dovuto anche adattare al fatto che oggi per la prima volta in carriera forse non viene più considerato un valore inestimabile quindi un giocatore irrinunciabile ci sarebbe ancora l'opzione Sporting però sarebbe una scelta di cuore non so quanto Ronaldo voglia andare in quella direzione ditemi come la pensate io più o meno ho questo punto di vista sulla questione Ronaldo scrivetemi un commento qua sotto li leggerò come sempre molto molto volentieri iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campana degli aggiornamenti ci vediamo molto presto e sempre Forza Toro